cari amici aprendo un qualsiasi manuale di letteratura italiana tra i primissimi capitoli ne troverete sicuramente uno intitolato letteratura religiosa e contenente il profilo di due importanti personaggi francesco d'assisi e jacopone da todi i giullari di dio come li definisce il curatore di questa edizione bur delle poesie di jacopone da todi giullari cioè cantori poeti che hanno dato forma letteraria al loro afflato religioso francesco e jacopone umbri tutti e due anche se non propriamente coevi come stiamo per vedere il primo muore quando il secondo nasce e soprattutto separati da una concezione completamente antitetica della dottrina cristiana del mondo come vedremo più avanti in un interessante confronto tra i due ma incominciamo da qualche cenno biografico necessario per inquadrare l'opera di questo autore quando siamo dove siamo e soprattutto chi era questo fra jacopone la linea del tempo la vedete 1230 36 circa 1306 insomma una bella età per quei tempi vi ho segnato anche la data di morte di francesco d'assisi per orizzontale lui si chiamava jacopo de benedetti nato da una famiglia todina discretamente agiata studiò diritto a bologna dove si trovava la celeberrima università intraprese la professione legale conducendo una vita spregiudicata e dedita ai piaceri ma dopo la morte della moglie in un brutto incidente cambiò repentinamente modus vivendi si convertì ad una esistenza di penitenza ascetica raminga all'insegna della povertà della fatica e delle umiliazioni finché nel 1278 entrò nell'ordine francescano che da pochi decenni era stato istituito e così jacopo de benedetti diventa fra jacopone e lo diventa in un periodo storico in cui già da tempo anzi direi da secoli si discuteva della corruzione e dell'immoralità della chiesa dell'ingerenza dei papi nel potere politico della necessità di un rinnovamento spirituale dell'istituzione ecclesiastica e di un ritorno alla purezza del messaggio di crisi nella lezione su francesco d'assisi di cui state vedendo il link in alto vi ho spiegato bene questa problematica e proprio al tempo di jacopone una speranza di salvezza si presentò addirittura dall'interno stesso della chiesa con l'elezione al pontificato di celestino quinto un santuomo che si chiamava pierre da morrone e faceva l'eremita nelle montagne della magliella in abruzzo ma poco dopo l'elezione come scrisse dante nel celeberrimo verso fece per viltade il gran rifiuto e questo permise la salita al soglio pontificio dell'odiatissimo bonifacio ottavo il responsabile fra le altre cose dell'esilio di dante e personaggio potente e ambizioso jacopone pensò di potersi mettere contro un potere molto più grande di lui tentando di intralciare i disegni e le mire del nuovo papa anche con l'aiuto dei cardinali della famiglia colonna che era la famiglia feudataria della zona di palestrina ed erano gli arci nemici della famiglia caetani feudatari della zona di ananni a cui apparteneva bonifacio il quale ordinò all'esercito pontificio di assaltare la rocca di palestrina appunto dove jacopone con i membri della famiglia colonna si trovavano al riparo e dopo un anno e mezzo di assedio la città cadde bonifacio scagliò contro di essa una rabbia un'ira straordinaria che tuttora lascia perplessi gli storici la fece distruggere e radere completamente al suolo non accadeva dai tempi di silla dopodiché fece catturare e imprigionare jacopone condannandolo al carcere a vita fu liberato nel 1303 con l'elezione del nuovo papa benedetto undicesimo e morì tre anni dopo nel 1306 significativamente nella notte di natale in un convento in umbria vicino alla città in cui era nato bene allora con riferimento all'opera di jacopone si parla di laude ora però attenzione sono le sue una reinterpretazione della originaria forma letteraria della lauda che fra jacopone in parte accoglie e in parte rielabora in maniera personale e individuale partiamo quindi proprio dal dare una definizione di lauda come genere letterario della poesia italiana delle origini lauda componimento poetico e musicale cioè cantato in volgare quindi attenzione non in latino di argomento religioso pensate che le sue origini si rinvengono nelle lamentazioni cioè in quei canti lamentosi di piedonne che in coro accompagnavano i diritti liturgici come in realtà si può vedere ancora oggi in alcuni paesi la lauda ebbe però un grande sviluppo con la diffusione nelle città di confraternite laiche votate soprattutto al culto della madonna in particolare quella dei flagellanti la cui peculiarità consisteva nello sfilare per le città in processione flagellandosi pubblicamente per mandare un messaggio di disprezzo del mondo e il rifiuto della dimensione corporea ed è così che la lauda si viene a caratterizzare come canto processionale cioè poesia cantata coralmente durante le processioni per accompagnare le processioni soprattutto nel periodo della passione quindi a pasqua come avviene tutt'oggi in moltissimi paesi italiani si parla anche di lauda drammatica perché i testi di queste poesie venivano scritti venivano concepiti proprio in funzione della drammatizzazione corale in processione venivano cioè cantati da gruppi di cori ognuno dei quali recitava la parte di un personaggio e a questo proposito non posso che mostrarvene una famosissima giusta appunto di jacopone la lauda drammatica donna del paradiso notate intanto la forma metrica quartine rimate e assonanzate che è proprio la forma originaria della lauda che jacopone quindi riprende dalla tradizione poi vedete anche ad occhio dalle virgolette che si tratta di un dialogo ora non lo avete davanti tutto ma sono presenti quattro personaggi ricordate ognuno veniva recitato da un coro durante la processione e il testo prende spunto dal racconto evangelico della passione quindi abbiamo il nunzio in principio vedete che va ad annunciare alla madonna che il figlio è stato catturato e sta per essere crocifisso abbiamo poi appunto il popolo degli ebrei che urla a ponzio pilato crucifige crucifige e poi la protagonista maria è la madonna e il suo dialogo veramente splendido con cristo stesso che vedete la chiama mamma la chiama ripetutamente mamma è un testo veramente splendido e commovente bene come avete visto jacopone da todi si inserisce nel solco della tradizione della lauda drammatica originaria quindi intesa come canto processionale donna de paradiso ne è un tipico esempio ma nella maggior parte dei casi la il genere lauda diventa nelle sue mani poesia individuale del tutto personale che non ha niente più a che fare con i cori e con le processioni l'argomento rimane naturalmente religioso perché la lauda è per definizione poesia religiosa e anche la struttura in quartine permane seppur con qualche variazione ma l'ispirazione diventa proprio personale e individuale osservate per esempio quest'altra lauda o papa bonifazio molto hai giocato al mondo penso ma che io condo non temporrai partire o papa bonifazio hai giocato molto nel mondo penso che non te ne potrai partire cioè non potrai morire io condo quindi così felice ora non mi voglio soffermare su questo testo ma capite già da soli che si tratta di una invettiva personale che non ha nulla più a a che vedere con il canto processionale quindi è poesia di ispirazione personale nei confronti dell'arci nemico di jacopone oltre all'invettiva che abbiamo visto in questo testo la maggior parte delle laude di ispirazione individuale di jacopone quindi mettiamo adesso da parte le i canti processionali abbiamo capito di cosa si tratta sono caratterizzate da contenuti comuni in particolare da due tematiche ricorrenti sia nella poesia che nella vita stessa di jacopone il contemptus mundi il disprezzo del mondo e l'ideale ascetico vediamo di cosa si tratta contemptus mundi l'ho detto in latino non per fare sfoggio di erudizione ma perché è il titolo di un'opera fondamentale per il pensiero teologico e filosofico del tempo la scritta nel 1195 quindi qualche decennio prima dell'età di jacopone l'otario dei conti di segni che sarebbe diventato papa tre anni dopo nel 1198 con il nome di innocenzo terzo un papa talmente importante che l'intero periodo storico del suo pontificato è chiamato età di innocenzo terzo a noi però questo personaggio interessa più che come papa come autore di questo opuscolo chiamiamolo così de contemptu mundi che è la principale fonte di ispirazione di jacopone da todi o meglio è il sostrato rappresenta il sostrato filosofico e culturale di quello che genericamente viene chiamato il pessimismo di jacopone ecco in realtà quello di jacopone non è una semplice forma di pessimismo individuale ma è una vera e propria dottrina cristiana che detronizza senza se e senza ma la vita terrena e la subordina ad un'altra molto più bella e migliore la vita ultraterrena di cui solo l'anima sarà partecipe non il corpo né tutti gli averi la giobba come avrebbe detto verga che l'uomo ha accumulato su questa terra in realtà innocenzo terzo e sto parlando di lui ma ricordatevi che si tratta degli stessi identici contenuti che troviamo nelle laude di jacopone da todi fa molto più che detronizzare il mondo terreno e gli offre in questo libro una delle più tetre e terribili immagini della condizione dell'uomo nel mondo l'uomo è per natura un essere moralmente corrotto dai peccati avidità gola lussuria orgoglio avarizza la sua è una vita di sofferenze dal principio alla fine tutte le età a partire dall'infanzia anzi dalla stessa nascita e qui ci ricorda tanto il canto notturno di un pastore errante di leopardi fino alla vecchiaia sono una sequela di fatiche e vanità il mondo in cui viviamo è un verminaio ma anche la vita sociale fatta di odi di tranelli di inganni è costante fonte di sofferenza e delusione ma ecco una guida al vivere bene tra le seduzioni dell'orribile terra tutta corrotta e disfatta il corpo la carne ecco l'abominevole orrore di lotario e jacopo per superare questa corporeità che è appunto un ostacolo alla dignità dell'uomo e alla redenzione non resta che andare oltre la dimensione corporea insomma il rifiuto del corpo ma anche il rifiuto della vita sociale e quindi la scelta di una esistenza eremitica o comunque lontana dalle frequentazioni mondane bene questa che adesso dovreste averlo capito non è una generica forma di pessimismo ma una precisa dottrina teologica e filosofica del mondo sta alla base del laudario di jacopone alcuni suoi componimenti la illustrano particolarmente bene uno di questi famosissimo è la lauda o signor per cortesia ecco ne state vedendo l'incipit il testo consiste in una lunga sequela di malattie e disgrazie che normalmente ci si augura di non avere dalla cecità all'itterizia alla pazzia alle emorroidi e che invece lui prega il signore come da titolo o signor per cortesia di mandargliele tutte quante è appena il caso di ricordarlo dietro questa apparente follia autolesionistica di jacopone c'è in realtà la dottrina del contemptus che vi ho illustrato prima il disprezzo del corpo visto come oggetto da umiliare in quanto ostacolo alla esperienza mistica e alla dignità umana come vi dicevo prima questo rifiuto del corpo che a noi può sembrare davvero eccessivo e forse difficilmente comprensibile non è una forma di follia autolesionistica ma è funzionale al raggiungimento dell'esperienza mistica dell'amore mistico dell'esperienza della visione esperienze che sono oggetto di altre laude molto famose molto belle come per esempio o iubelo del core o amore muto amor diletto amore anche jacopone cerca e trova l'amore ma si tratta di un amore completamente diverso da quello terreno e in conclusione come vi avevo promesso all'inizio del video un interessante raffronto tra i due grandi protagonisti di questa cosiddetta letteratura religiosa francesco d'assisi e jacopone da todi anche se soprattutto se già avete studiato il cantico delle creature immagino che la risposta ve la siate già data da su completamente antitetica alla visione tetra e cupa del mondo e dell'uomo di jacopone è la gioia che il santo di assisi prova come emerge dal cantico delle creature nel sentirsi attorniato da un mondo in ogni minimo elemento del quale vede la mano benefica e amorevole del signore beh una visione certamente più rasserenante consolante anche se posso citarvi e ci sta bene per chiudere quello che ha dichiarato il nostro giuseppe ungaretti in una intervista in cui gli chiedevano chi fosse il suo poeta preferito e lui risponde proprio jacopone da todi non così sublime come un dante o un petrarca ma con una voce talmente profonda e talmente potente da innalzarsi fino a comunicare con l'assoluto e questo prosegue ungaretti lo commuove ogni volta e commuove anche noi da innalzarsi fino a un petrarca ma con 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 un petrarca